Un progetto che parte direttamente dall'amministrazione comunale, di cosa si tratta? Si tratta dei laboratori pomeridiani durante quest'anno scolastico anche concernenti all'attività della mattina relativamente alla scuola materna comunale in fiore all'occhiello per l'amministrazione. Quello che stiamo proponendo sono delle attività sia di psicomotricità, teatrale e un po' la novità di quest'anno è il trilinguismo. Si parla di italiano, francese e inglese, anche l'anno scorso erano stati portati avanti questi laboratori ma l'ottica di quest'anno è leggermente diversa perché abbiamo assicurato una continuità didattica tra la mattina e il pomeriggio assicurando la compresenza delle maestre e dei ragazzi che portano avanti queste attività e in particolar modo per quanto riguarda il trilinguismo lo abbiamo allocato la mattina piuttosto che il pomeriggio perché i bambini sono più freschi e quindi si è passata da un'attività puramente ludica che era quella dell'anno scorso a un'attività non voglio dire impegnativa però diciamo più educativa quindi questa è l'innovazione di quest'anno. Diciamo è un'attività totalmente a carico del comune e quindi gratuita per gli utenti è un grande sforzo da parte dell'amministrazione comunale però noi crediamo diciamo fortemente nella scuola, nell'istruzione, nell'università tant'è vero diciamo che abbiamo un assessore che sarei io dedicato proprio all'istruzione penso diciamo che questo dia un po' il peso di quanto per noi è importante questo aspetto diciamo della vita cittadina.